Ciao, ciao Paola, grazie. Alla fine di tutto l'anno, magari una medaglia d'oro dell'Olimpiadi, un nastro d'argento, alla fine, si raccimola qualcosa. Ci dedichiamo adesso all'identità numero 3. Benvenuto. Il suo nome è? Roberto Albanese, nato a San Salvatore e Telesino, provincia di Benevento, e vivo a Roma. Vive a Roma. Il signor Albanese è il suo prossimo ostacolo. Escluderei, comico a quelli che è il calcio, che canta alle sagre, che fa vestiti per statuine del presepe, forse anche che restaura stufe. Quindi rimane? Rimarrebbe o un fecondacavalli o trucca Sabrina Ferilli. E ce lo vedrei. Lo vedrei come truccatore di Sabrina Ferilli. Molto posato. A lei fa sì con le... Lui annuisce. Farebbe sicuramente piacere. Ecco, diciamo, o lo è o gli farebbe molto piacere. Sicuramente le farebbe molto piacere. Vallo a capire. Lo vedrei bene pure come veterinario, veramente. Però devo fare necessariamente una scelta. Statuine del presepe, la sua provenienza, sicuramente. se fosse rimasto al paese d'origine avrei detto fa vestiti per statuine del presepe. A questo punto direi... data la sua provenienza, e non la sua sede, fa vestiti per statuine del presepe. Ecco qua. Ecco qua. Ah. Vale 40.000 euro. 42.000 euro in gioco per lei. Per 42.000 euro. Signor Albanese. Roberto Albanese. E' lei che fa vestiti per statuine del presepe? E' lei che fa vestiti per statuine del presepe?